Una grande novità per i tantissimi tifosi del Pescara e per gli appassionati di calcio in Abruzzo. Rete 8 trasmetterà in diretta, in chiaro, dunque a titolo gratuito sul canale 10 del digitale terrestre, quattro gare in trasferta del Pescara. Non solo, Rete 8 si è giudicata il pacchetto di rette e differite sintesi che prevede la messa in onda sino al termine della stagione regolare, come detto di quattro partite esterne in diretta del Pescara e di tutte le altre gare dei Biancazzurri in differita. Si comincia domenica prossima, 8 ottobre, Spal Pescara, ore 18.30, in chiaro, sul Rete 8, che proporrà anche un ricco pre-partita con le interviste in esclusiva e il consueto post-gara con le voci dei protagonisti. Sulla panchina della Spal, il debutto di Leonardo Colucci, scelto per sostituire l'esonerato Domenico Di Carlo. Ma intanto c'è la Coppa Italia, primo turno domani ore 20.45, di fronte all'Adriatico Giovanni Cornacchia, Pescara e Fermana, sarà massiccio turnover. In difesa ha previsto il debutto di Pasquale Staver, a centrocampo in attacco scontato l'utilizzo di Mora e Vergani. Match a eliminazione diretta, chi supera il turno se la vedrà a novembre sempre in gara secca con la vincente della sfida, Ancona-Pinetto.